L'appuntamento è per il 23 giugno nell'Aula Magna dell'ospedale di Pescara, un congresso dai contenuti interessanti, visto che decine di relatori parleranno di microbiologia delle infezioni rare autottone e di importazione che sembrano lontane ma potrebbero riguardare ognuno di noi. Un momento di incontro aperto non solo ai medici ma anche ai cittadini, come dice il professor Paolo Fazio, organizzatore dell'evento e direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara. Assieme a suo vice, nonché delegato a Amcle, Abruzzo e Molise, il dottor Luigi Clerico. Parleremo questa volta di infezioni rare, cioè di un gruppo di patologie neglette, ovvero un gruppo di patologie che una volta erano importanti in patologia umana, parlo della difterite ad esempio della lepra, che adesso invece non hanno perlomeno in occidente tutta questa valenza ma che purtroppo invece come patogeni da malattie e patogeni da importazione ovviamente ogni tanto si possono evidenziare soprattutto nelle zone dove c'è una grande quantità di migranti. Si parlerà della diarrea del viaggiatore, si parlerà ad esempio delle febbre emorragiche, no? La dengue è una delle febbre emorragiche. L'anno scorso, non so se vi ricordate, ci furono due casi di dengue importata di due italiane che erano tutte e due residenti nel Terramano. Quindi è importante riconoscere queste patologie. La dengue, ad esempio, è una patologia trasmessa da vettori, in particolare da zanzare. Anche Edes albopictus, che è la nostra zanzara tigrica, ormai è diventata endemica anche in Italia, è in grado di trasmettere la dengue. Per quanto riguarda invece le patologie rare autoctone, si parlerà di quelle patologie, anche qui misconosciute, ma che sono presenti ormai in Italia o da sempre o da un numero di anni. Ad esempio si parlerà di Toscana virus, che è un agente esiologico di meningocifariti virali, che è trasmessa tramite un flebotomo, quindi una specie di zanzarina, che è presente, ad esempio, anche in Abruzzo. Si parlerà dei cambiamenti climatici, si parlerà dell'ecologia dei vettori, dei vettori, quindi zecche, zanzare e flebotomi, che possono trasmettere queste malattie. Io parlerò anche di questo congresso e, essendo un micologo clinico, parlerò sia delle micosi da importazioni rare e sia delle micosi rare autoctone. In particolare parlerò di un fungo dimorfo, si chiama Istoplasma capsulatum varietas capsulatum, che è il numero, diciamo, piuttosto limitato, ma è stato evidenziato anche in Italia ed è causa di una patologia polmonare, solitamente polmonare, ma anche molto importante. Cercando appunto di sottolineare quanto possa essere importante il nuovo concetto di salute, One Health, un'unica salute, dove la salute degli animali, la salute degli umani, deve essere considerata come un tutt'uno in un contesto che è l'ambiente che ovviamente ci ospita. Grazie a tutti.